I cavalli sono in partenza. Partiti! Beautiful Disaster per linee interne si porta in vantaggio seguito da Diablo Roscio che ha all'esterno Chiamami Boss con in coda shorty cavalli ora prossimi all'imbocco della curva di fondo con Chiamami Boss che all'esterno sta passando al comando tallonato da Diablo Roscio in terza posizione scivola in corda Diablo Beautiful Disaster davanti a shorty. Siamo ora lungo l'arco della curva Chiamami Boss e Liver nei confronti di Diablo Roscio in terza posizione all'interno Beautiful Disaster con a largo shorty. Caralli ora in retta di arrivo con Chiamami Boss che sta allungando allo steccato seguito nella scia da Beautiful Disaster mentre a centropista figura Diablo Roscio tollonato da shorty. Siamo a 400 dal palo Chiamami Boss sempre in vantaggio allo steccato ora attaccato a fondo al centro pista da Diablo Roscio dietro i due segue shorty. Siamo a 200 dal palo Chiamami Boss mantiene la meglio fin sul palo ed è Chiamami Boss che si impone davanti a Diablo Roscio poi shorty e Beautiful Disaster. Andiamo a rivedere le immagini che ci ripropone ora la regia con la bella affermazione del numero 4 Chiamami Boss che ha letto Fiocchi in sella che ha mantenuto la meglio fin sul palo dai tentativi di Diablo Roscio numero 5 quindi 4-5 è l'arrivo ufficioso della prima corsa di Napoli. Grazie. 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 Grazie a tutti